Ciao Stefano, buonasera a tutti, ci ritroviamo qui per le pillole di Fanta Calcio 10 più giolli con me e Marco Serena, vi volevo parlare di questa 25esima giornata dove ci saranno 9 partite anziché le solite 10 perché l'azionese è stata rinviata data da destinarsi, andiamo con le certezze, le possibili sorprese ruolo per ruolo, in porta partiamo le due certezze, una è Donnarumma che è assolutamente il portiere del momento e l'altra è Olsen che chi l'avrebbe mai detto, visto l'inizio difficile di campionato, ora invece si ritrova ad essere una delle certezze della Roma che sta ritrovando anche solidità difensiva pian piano, una delle sorprese invece potrebbe essere Sirigu, visto che l'attacco dell'Atalanta è un po' rabberciato con Gomez che non è al meglio e potrebbe non giocare, quindi potrebbe trovare un po' più di difficoltà negli inserimenti offensivi, quindi Sirigu potrebbe non subire gol, in difesa la certezza è Kolarov, mentre la sorpresa potrebbe essere Ansaldi che continua a giocare in posizioni di centrocampista in questo periodo, centrocampo invece la certezza è Chiesa, mentre le sorprese potrebbero essere Bernardeschi, dato titolare e Cialanoglu, visto che l'ultima giornata segnata potrebbe continuare con questo trend, mentre in attacco le certezze si chiamano Pionteca, assolutamente Uomo Gioi e Zeco, mentre la sorpresa potrebbe essere Milic. Vi ricordo la mia agenzia immobiliare, The House Immobiliare, se volete vedere le nostre case sono sui siti di maggiori annunci immobiliari, dei delisti immobiliare.it e quant'altro. Vi mando un carissimo abbraccio, alla prossima settimana, un abbraccio anche a te Stefano, a presto. Grazie.